Sono arrivati a Monte Zanzavino da tutta Italia, cosplay ed appassionati di giochi e fumetti per un vero e proprio tuffo in un'atmosfera fantasy. È infatti tornata nella cittadina della Valdichiana Chimera Comics, la seconda edizione della fiera che ha così nuovamente trasformato il centro storico in un palcoscenico curioso e stravagante adatto ad ogni età. Novità assoluta di quest'anno è l'area tema con allestimenti ed animazioni, i stili e figuranti che hanno fatto divertire il pubblico con spettacoli e giochi. Ma passeggiando per il borgo di Monte Zanzavino è stato possibile anche ritrovarsi in un saloon stile western, svoltare un angolo e scoprire un survival horror e finire nella bagna dei pirati. Ampio spazio anche quest'anno al fantasy con i figuranti del Signore degli Anelli, dei giochi di ruolo dal vivo e dei gruppi vestiti a tema. Ovviamente non poteva mancare la gara di cosplay. 25, 13, 24, 7 ragioni su 7, pensi che non escludi il conto, il conto non mi spaventa!